buongiorno andiamo a vedere insieme come resettare il pannello di comando truma cp plus andiamo innanzitutto ad accendere il pannello cliccando il pomello multiuso per circa due secondi troveremo la schermata dei sei programmi del funzionamento dobbiamo arrivare sulle impostazioni generali andando a girare il pomello in senso orario siamo arrivati sulle impostazioni andiamo a cliccare come vedete troveremo la prima opzione che sarà offset dobbiamo arrivare fino all'opzione reset per resettare il pannello clicchiamo il pomello troveremo preset dovremo cliccare un'altra volta troveremo init inizializzazione la centralina viene resettata direttamente dal pannello di comando e tutti gli errori presenti se sono falsi errori si dovrebbero andare a cancellare